buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati online insieme io sono elisa contessotto sono so e formatrice per seo zoom sono qui con max con giudia nel back end con il team di seo zoom e tutti quanti noi insieme diamo un forte benvenuto a paolo calicchio paolo benvenuto lei con noi buongiorno buongiorno a tutti è un piacere poi ho visto che hai anche tu max lì dietro quindi prendi anche tu max così facciamo un saluto a due max oggi parliamo di un tema che mi piace tantissimo come migliorare delle pagine già online è un tema a cui sono molto appassionata un tema su cui ho studiato tanto e proprio per questo sono veramente curiosa e interessata ad ascoltare quello che ci dirà paolo durante la lezione aggiornare un contenuto online è importantissimo e spesso è un'attività che viene un po trascurata si studia tanto come fare prima della pubblicazione ed è ovviamente importante dalla fase di analisi di keyword research alla realizzazione del contenuto ma spesso una volta scritto il punto finale si pubblica il contenuto e si tende un po dimenticarsene senza considerare che un contenuto una volta che online raccoglie dati raccoglie informazioni e quindi proprio per questo può essere migliorato sulla base di quello che abbiamo raccolto può essere migliorato per tanti motivi e non solo in realtà per l'aggiornamento del naturale che va fatto un contenuto perché banalmente invecchia ci sono tanti aspetti che possiamo curare e tutti questi aspetti dovrebbero proprio far parte del nostro lavoro settimanale come seo anche nell'andare a prenderci cura dei nostri contenuti online proprio perché lavorare sui contenuti già online ci permette di sfruttare una potenza che in qualche modo hanno questi contenuti avendo magari già ottenuto qualche risultato bene possono fare ancora di più e cerchiamo di farlo per far crescere ulteriormente il nostro progetto e portare ai nostri utenti contenuti ancora più utili ancora più funzionali contenuti capaci di convertire in base a quello che è il nostro interesse a parlarne per noi oggi di questo tema c'è Paolo Calicchio Paolo è un SEO specialist è un formatore lavora in Mocha Interactive una bellissima realtà nel Trevigiano dove ho avuto piacere anche io di andare a salutarli tutti quanti in sede è anche un ingegnere come percorso professionale è una cosa secondo me molto bella è che Paolo come tanti altri colleghi lavora anche dei suoi progetti ha tante attività su cui va a svolgere la sua attività non solo come formatore consulente ma è bello perché mette le mani in pasta su tante cose questo per me è un grande valore aggiunto quando portiamo la nostra competenza agli altri più esperienza abbiamo più riusciamo a sperimentare sia con i clienti sia anche con i progetti dove a quel punto si può veramente provare di tutto perché abbiamo da perderne solo noi penso che questa sia una cosa veramente una nota di merito per chi per chi mette le mani in pasta tutti i giorni in questo modo quindi sulla base di questo io direi Paolo ti passo la parola e ti ascolto insieme a tutti i nostri partecipanti perfetto grazie Elisa nelle premesse hai praticamente già riassunto un pochino quello che sarà la tematica principale dell'argomento di cui tratteremo oggi io vi condivido subito alla presentazione datemi un cenno ok ti confermo che la vediamo perfetta la domanda a cui oggi vorrei che voi siete in grado di rispondere le attività se o che noi andiamo a effettuare all'interno di un sito possono ad un certo punto considerarsi concluse teoricamente no cioè nel senso che se noi siamo bravi e generalmente le nostre attività potrebbero non concludersi mai e ve lo dimostro tra un istante parliamo di attività di fine tuning quindi stiamo parlando di attività che possiamo portare avanti dopo che è stata già fatta un'ottimizzazione iniziale quindi stiamo parlando di ottimizzare delle pagine che sono già esistenti quindi immaginate di avere un vostro sito un vostro blog o il sito di un cliente che può essere un sito istituzionale una vetrina un e-commerce abbiamo creato quindi le nostre pagine prodotto le pagine categoria oppure dei semplici contenuti per il blog abbiamo fatto quindi analisi competitors abbiamo fatto l'analisi delle keywords la redazione del testo ci siamo sforzati per trovare tutte le affinità semantiche per ottimizzare in maniera perfetta il nostro contenuto link interni eccetera ma il nostro lavoro adesso è finito in realtà la risposta è no perché da qui partono le attività di ottimizzazione quindi cominciamo a raccogliere dei dati e vediamo se ci sono delle pagine su cui possiamo ulteriormente lavorare ci sono quattro buone ragioni per non smettere mai di ottimizzare i contenuti questo perché perché aggiornare con una certa frequenza le pagine del vostro sito permetterà al motore di ricerca di ricevere un segnale preciso cioè il mio sito è attivo il mio sito è vivo si muove cambia ogni giorno quindi gli dà uno stimolo quotidiano a passare con il suo crawler con il suo ragnetto all'interno delle nostre pagine e indicizzarle posizionarle sempre meglio google premia la qualità il fatto che noi che ci impegniamo così tanto a migliorare i contenuti sul nostro sito è indice di qualità la prima ragione per cui è bene continuare le ottimizzazioni all'interno di un sito è che in questo modo come vi dicevo il motore di ricerca rileva che la pagina è viva e apro una piccola parentesi non basta semplicemente aggiornare la data come fanno alcune persone perché nella mia esperienza ho visto tante persone che semplicemente anche avendo un blog arrivano ad un certo punto aggiornano la data di pubblicazione non è sufficiente chiaramente questo perché il motore di ricerca sa che cosa c'era all'interno del sito prima della pubblicazione sa che cosa c'è dopo la dopo la modifica per cui rileva che non c'è stata nessuna modifica secondo punto se le informazioni presenti in pagina quindi nella vostra pagina modificata sono più aggiornate quindi più ricche rispetto a quelle dei competitors potete avere la certezza assoluta che google premiera il vostro contenuto cercherò di farvi anche degli esempi molto pratici proseguendo inoltre possiamo andare a correggere il contenuto in pagina se il rendimento al di sotto delle aspettative perché sapete benissimo che anche se provate a ottimizzare perfettamente una pagina non è detto che questa riesca a posizionarsi esattamente come voi avevate programmato quindi possono essere sempre necessarie delle correzioni delle modifiche e anche se la tua pagina si è già posizionata puoi provare ancora a migliorarla perché se avete già confidenza con il concetto di search intent sapete che si lavora per l'ottimizzazione di una pagina non ad una keyword ma ad un intento di ricerca quindi a un set di parole chiave che possono essere ottimizzate quindi posizionate sul motore di ricerca inoltre il punto più importante è da dove cominciamo le nostre modifiche quindi noi abbiamo il nostro sito abbiamo lavorato su tutto ok ci serve adesso un punto di partenza da dove inizio sicuramente non a caso cerchiamo un metodo quindi che possa avere un senso e una validità per poterci approcciare a questo sistema un metodo rigoroso scientifico possiamo dire anche quindi come scelgo le pagine da ottimizzare da dove posso partire innanzitutto io vi do il consiglio di ascoltare quello che il vostro cliente nel senso che se voi lavorate per un brand o per un cliente ascoltate quali sono le sue richieste soprattutto nel caso di un e-commerce possiamo andare ad analizzare i volumi di ricerca e quindi anche cercare di capire quali sono le keyword più importanti quelle più più grosse su cui potremmo andare a ottenere un traffico organico maggiore e poi possiamo fare un'analisi di rendimento quindi capire come stanno andando le pagine fino a questo momento sono pagine che stanno rendendo bene siamo soddisfatti sono delle pagine che potrebbero rendere ancora di più sono delle pagine che non stanno rendendo affatto cerchiamo anche di capire perché possiamo anche sfruttare quelli che sono i trend stagionali vedremo che cosa significa sappiamo per il momento che ci sono delle keyword che in determinati periodi dell'anno hanno un rendimento maggiore rispetto agli altri mesi questa questa piccola riflessione può essere un punto di partenza per le nostre ottimizzazioni inoltre ok pagine con opportunità di seo zoom è una sezione che di cui elisa ci ha parlato già diverse volte e uno strumento secondo me molto utile se anche per dare una prima occhiata a quello che è lo stato di ottimizzazione di un sito internet allo stato del posizionamento con questa con questo tool che vedremo più che vedremo a breve possiamo subito individuare una serie di url su cui andare a lavorare partiamo subito dal primo punto le necessità di brand se voi lavorate con un e commerce è molto importante che rivolgiate al vostro cliente una serie di domande ci sono dei prodotti su cui puntiamo di più oppure ci sono dei prodotti su cui stiamo rendendo meno rispetto a quelle che sono le aspettative oppure ci sono delle categorie di prodotti su cui lavoreremo maggiormente nei prossimi mesi questo va a fianco quindi a braccetto anche con il concetto di stagionalità cerchiamo di capire quali sono le esigenze del brand del cliente su cui stiamo lavorando e capiamo quindi come si muove anche il mercato cerchiamo anche magari di essere un pochino furbi di anticipare quelli che possono essere i trend altro punto importante per poter poter partire con le nostre analisi è capire quali sono i volumi di ricerca da questo punto di vista seo zoom può essere uno strumento molto importante perché ci permette di avere una fotografia chiara e la vedete nello nello schermo che vi sto presentando con tutte le parole chiave che sono posizionate per il nostro sito internet come leggere questo grafico avete le vostre parole chiave e i volumi di ricerca semplicemente con su zoom avete la possibilità come ho fatto io di utilizzare i filtri e quindi di andare a prendere soltanto in considerazione le keyword che hanno dei volumi di traffico effettivamente interessanti lasciamo per ultime le keyword che magari hanno volumi di traffico trascurabili di 10 20 ricerche al mese cominciamo a concentrarci su quelle che sono effettivamente più grosse con seo zoom ci troviamo nella sezione keyword studio nella sezione tutte abbiamo la possibilità di vedere anche le url che sono associate ad ogni keyword piccolo suggerimento che vi do e di cui elisa ha già parlato un paio di occasioni mi ricordo è quello di poter trascinare la cella url come vi faccio vedere direttamente in questa barra orizzontale sopra tutte le keyword per cui il sito è presente in SERP che cosa sia sia una nuova schermata sostanzialmente in cui le keyword vengono riorganizzate e ordinati in base alle pagine di appartenenza perché questa funzione è importante perché nel primo caso saremo andati a lavorare su delle keyword singole in questo caso noi possiamo già andare a lavorare sulla pagina e capire quali sono le keyword che appartengono a quella pagina su cui potremo andare a lavorare per esempio nella sezione 50 siti 50 siti photo stock gratis ci sono queste due keyword che hanno dei volumi di traffico rilevanti vi consiglio anche di utilizzare un filtro cioè non ha senso intervenire sulle keyword che sono già posizionate io per esempio ho utilizzato come filtro dammi tutte le parole chiave che hanno una posizione dal 10 in poi quindi che si trovano sostanzialmente dalla seconda pagina quindi utilizzare i filtri è un'idea molto costruttiva per poter portare avanti questo tipo di ricerca avete la stagionalità avete l'intento di ricerca quindi cercate di utilizzarli perché sono davvero molto utili altra cosa su cui si può partire ed è una cosa che sostanzialmente io faccio quasi sempre è l'analisi sul rendimento delle pagine come vi dicevo prima molto spesso il cliente che viene da noi ci e ci dice se ci sono delle pagine che effettivamente stanno rendendo meno rispetto a quelle che sono le aspettative mi è capitato proprio la scorsa settimana che un cliente mi ha richiesto come mai una pagina non stesse ricevendo alcun tipo di vista da qui parte l'esigenza di fare delle analisi come potete fare le analisi attraverso la search console uno strumento gratuito che vi consiglio assolutamente di utilizzare se volete fare se ho fatto per bene e attraverso l'analisi della sezione rendimento potete confrontare i dati delle varie pagine attraverso un confronto tra orizzonti temporali differenti occhio però che la search console tiene conto delle stagionalità visto che registra i click che arrivano all'interno del vostro sito sappiate che se voi avete un negozio o un blog o un articolo che tratta maioni di natale per esempio non potete confrontare la keyword e quindi i click che arrivano attraverso questa keyword dal mese di dicembre con il mese di agosto chiaramente il volume di ricerca è molto variabile quindi cerchiamo di effettuare un confronto su due orizzonti temporali che possano essere paragonabili generalmente può essere una buona idea paragonarli di anno in anno anche qui però attenzione al buonsenso perché perché il covid ci ha insegnato che le esigenze possono cambiare di anno in anno sempre sulla search console prima che mi dimentichi c'è una importante cosa da notare e che è la differenza di click su questa sezione vedete che per ogni pagina potete trovare quello che è la variazione di click tra il periodo attuale il periodo precedente quindi voi avete modo sostanzialmente di capire se ci sono delle pagine che rispetto allo scorso anno hanno meno click quindi stanno rendendo di meno in tal caso è utile cercare di capire perché quindi questo può essere un punto di importante di partenza per fare delle analisi più approfondite su quella pagina e partire da lì per le nuove ottimizzazioni sull'analisi di pagina poi potete effettuare un confronto anche sulle query quindi andare a verificare quali sono i termini di ricerca che sono stati digitati materialmente su google dagli utenti per entrare all'interno del vostro sito anche in questo caso potete effettuare un confronto tra periodo attuale e quello precedente non vi basate soltanto sul click prendete come riferimento i click sì ma anche le impression e il ctr perché sono una sono dei buoni indicatori per verificare come si sta posizionando quella query altro strumento che potete utilizzare google analytics sempre gratuito facile da installare sul vostro sito anche in questo caso effettuando un filtro con una ricerca organica quindi vedendo soltanto quelle che sono le sessioni in ingresso da google quindi da una ricerca organica possiamo andare a fare un confronto tra sessioni utenti e verificare anche il comportamento in pagina ad esempio verificare quante persone vanno via adesso e quante persone andavano via un anno fa per esempio dopo aver letto quella pagina o quanto quanto dura la sessione media di un generico utente possiamo quindi effettuare un confronto che ci dice tante indicazioni su come l'utente si muove e si comporta all'interno di questa pagina anche in questo caso occhio perché nella scelta dell'orizzonte temporale siamo influenzati dalle stagionalità quindi prendete sempre come orizzonte temporale due periodi che siano coerenti per poter ottenere la schermata vi ho lasciato le indicazioni qui in basso basta andare su acquisizioni panoramica ricerca organica pagine di destinazione e avrete l'elenco completo con tutte le pagine del sito altra cosa e qui devo dire che la giornata lo zoom day di settembre è stata molto importante riguarda i trend stagionali si è parlato proprio di trend stagionali e vi consiglio nel prossimo anno di esserci perché gli spunti sono davvero molto molto interessanti su seo zoom esistono due sezioni legate alle keyword il piano trimestrale e le keyword stagionali l'idea qual è è le keyword non hanno delle ricerche che si mantengono costanti nel tempo come vi spiegavo prima una ricerca legata ai maglioni di natale avrà dei volumi molto superiori a dicembre rispetto ad agosto questo vuol dire che per il mese di novembre quella pagina deve essere performante deve essere pronta deve essere aggiornata quindi andiamo a ottimizzare quelle che sono le pagine che nel prossimo periodo quindi nel breve medio periodo possono avere dei volumi di ricerca maggiori seo zoom ci dà la possibilità di ottenere delle informazioni precise su quali siano le pagine da ottimizzare attraverso questi due strumenti il piano trimestrale vi dice quelle che sono le keyword presenti all'interno del vostro sito che nei prossimi tre mesi possono avere un incremento di traffico mentre invece le keyword stagionali ci dicono mese per mese quali sono le keyword più importanti da tenere in considerazione e che hanno addirittura dei volumi di traffico doppi anche tripli rispetto a quello che è il volume medio quindi stiamo parlando di interventi su cui vale nettamente la pena perderci del tempo per le ottimizzazioni altra cosa su cui possiamo focalizzare la nostra attenzione come punto di partenza è lo studio delle pagine con potenziale è uno strumento che trovate direttamente all'interno di seo zoom e molto semplice da utilizzare vedete che nello schema praticamente da seo zoom avete le pagine con potenziale in cui c'è sostanzialmente una lista di tutte le pagine su cui si può andare a lavorare perché sono selezionate queste pagine perché sono posizionate su delle keyword che al momento si trovano su posizioni che variano tra la fine della prima la seconda pagina e sono delle pagine per le quali un piccolo incremento una piccola variazione qualche piccola modifica potrebbe generare un ottimo risultato quindi può essere sicuramente un punto di partenza lo studio delle pagine con potenzialità come piccolo trucchetto vi dico abilitate anche il potenziale delle pagine così riuscite a fare un confronto tra quanto sta rendendo attualmente il posizionamento delle vostre pagine e quanto potrebbe rendere se la pagina venisse ottimizzata venisse modificata e quindi avesse un rendimento maggiore che cosa dobbiamo adesso che abbiamo capito su quali pagine lavorare dove andiamo a modificare dove interveniamo che cosa andiamo a prendere in considerazione i parametri sono tanti non entrerò nel dettaglio di ciascuno di questi perché altrimenti potremo stare qui praticamente fino a domani quindi vi do però una lista di punti da prendere in considerazione attraverso la sezione della gestione dei progetti di SEOZoom potete individuare quindi le pagine che hanno delle potenzialità e la prima domanda che è da farsi è le pagine sono dei indicizzate? hanno dei volumi di traffico o stiamo parlando di una pagina che ha rendimento ma insufficiente? quindi questa è già una prima domanda seconda domanda, crawl depth entro poi dopo nel dettaglio più nel generico questa pagina che voglio andare a modificare come è collegata all'interno dell'architettura del sito? punto ulteriore andiamo a fare una revisione delle immagini dati, peso, alt, title entreremo tra poco nel dettaglio verifichiamo com'è la matrice dei link i link in ingresso in una pagina sono determinanti non stiamo parlando di link building stiamo parlando di link naturali interni vediamo ancora la comunicazione in SERP quindi come ci stiamo presentando come stiamo presentando la nostra pagina al motore di ricerca e quindi agli utenti che per la prima volta trovano la nostra pagina in SERP quindi nella ricerca di Google inoltre, ed è un problema questo che capita molto spesso soprattutto negli e-commerce questa pagina è soggetta a cannibalizzazioni esistono altre pagine che stanno pestando i piedi alla nostra? ci sono problemi da questo punto di vista? e ancora, ottimizzare le call to action cioè cercare alla fine di arrivare al punto fare in modo che il nostro utente diventi un cliente prima considerazione riguarda le possibili dei indicizzazioni mi è capitato proprio la scorsa settimana di un cliente che mi ha chiesto come mai una pagina sembrava fosse morta praticamente una pagina che non aveva nessun click nessuna impression, nessuna sessione semplicemente da search console si fa un'analisi della pagina si riesce a capire se la pagina è indicizzata o meno attenzione, non posizionata, indicizzata vuol dire che il motore di ricerca in questo caso trovate infatti l'URL non si trova su Google significa che la pagina per il motore di ricerca non esiste è come se il motore di ricerca avesse qualche difficoltà ad accedere a questa pagina quindi nel momento in cui vi trovate di fronte ad una situazione simile ed è una verifica che si fa in praticamente due secondi ci sono alcuni aspetti da considerare prima di tutto l'attributo canonical è presente un attributo canonical sulla pagina se sì, a cosa punta? ci sono degli errori magari sul canonical e questo vi dico è l'errore più frequente che io trovo sui siti dei miei clienti il canonical impostato male altro problema che può essere causa di una deindicizzazione un eventuale no index anche in questo caso mi era capitato un cliente che senza volerlo avesse impostato un no index all'interno della propria pagina e ovviamente la pagina è sparita dalla SERP altra misura che potrebbe andare a causare una deindicizzazione eventuali istruzioni date sul file robots.txt che impediscono al motore di ricerca come una porta chiusa di accedere a quella pagina profondità di scansione ciò che per noi è importante è importante anche per il motore di ricerca il motore di ricerca questo ragnetto che arriva sul sito il crawler parte dalla home page e comincia a scansionare tutte le pagine saltellando di link in link cercando quindi di coprire tutto il nostro sito e se non ci riesce e se ci sono magari dei rami del nostro albero che sono collocati tanto in là cioè mi capita spesso sui siti di alcuni clienti di trovare delle pagine che per essere raggiunte hanno bisogno davvero di tanti click parliamo di pagine magari di 15 click ho visto una volta un indice con profondità di scansione di 64 significa praticamente partite dalla home servono 64 click per arrivare a quella pagina capite che il motore di ricerca per arrivarci fa una fatica enorme e quindi la pagina perde potere perde la sua possibilità di posizionarsi quindi può essere interessante capire nel momento in cui stiamo ottimizzando una pagina quindi stiamo facendo le nostre attività di fine tuning come questa pagina è collegata all'home page c'è un banner che possiamo inserire all'interno dell'home page è collegata dal menu è collegata correttamente nelle categorie o è finita in fondo alla paginazione di un blog occhio ve lo lascio come spunto per studiare a casa come compiti a casa occhio alle orphan page perché sono una delle preoccupazioni maggiori che noi se dovremmo avere ottimizzazioni ulteriori riguardano le immagini le immagini voi sapete che il motore di ricerca legge la nostra pagina andando ad analizzare il codice html e nel codice html lo vedete qui in basso evidenziato c'è anche un img src che cos'è? non è altro che il link al riferimento all'immagine ok? perché utilizzare un nome di un file generico quando potremmo già utilizzare le nostre keyword all'interno dell'immagine? immaginate comunque che il motore di ricerca non riesce a capire il contenuto di un'immagine dobbiamo suggerirglielo noi come con il nome dell'immagine in questo caso giustamente lo staff di SeoZoom ha ottimizzato con meta-description.jpg un contenuto che parlava della meta description quindi ha inserito già correttamente la keyword nel nome del file ma altri spunti riguardano l'attributo alt utile per l'accessibilità al sito e l'attributo title inoltre vi dicevo occhio al nome del file ma anche al peso del file è inutile caricare un file da 4 megabyte che richiede tanto tempo soprattutto ora che le performance sono diventate così importanti per il motore di ricerca ottimizziamo quindi il peso delle immagini ma anche le misure se un'immagine verrà contenuta e mostrata in un box da 700 pixel perché caricare un'immagine da 2000 pixel sprecando spazio e tempo per il motore di ricerca per il browser per aprire per compattare l'immagine insomma tutte ottimizzazioni che ci costano davvero poco come energia come difficoltà sono modifiche molto semplici da fare ma che hanno un peso molto rilevante ottimizzando un'immagine voi potreste risparmiare secondi di caricamento che possono essere davvero preziosi altra cosa molto importante estremamente importante direi è la rete di link interni perché sento molto spesso altri SEO parlare di link building in realtà la prima operazione che bisognerebbe fare sul proprio sito su quello di un proprio cliente è l'ottimizzazione dei link interni sapete che più una pagina viene linkata quindi più sono i link in ingresso all'interno di una pagina più questa pagina ha una rilevanza per il motore di ricerca ogni link che noi puntiamo su quella pagina è un'indicazione al motore di ricerca per dirgli guarda che quella pagina per me è importante te la sto linkando tante volte e potete star sicuri che più una pagina è linkata e meglio si posizionerà quindi noi cerchiamo quelle che sono le pagine per noi più strategiche e linkiamole quindi quando andiamo a fare la revisione dei nostri contenuti ricordiamoci di aggiungere dei link soprattutto nella gestione dei blog capita spesso che gli articoli essendo consecutivi nel tempo non vadano a linkarsi correttamente quindi quando si va a fare una revisione un'attività di fine tuning è conveniente e buona prassi fare in modo di andare a rivedere i link gestiti e soprattutto utilizziamo l'attributo tag title che cos'è? è un altro è un altro riferimento che diamo al motore di ricerca utilizziamo l'attributo title per indicare al motore di ricerca che cosa vedrà sulla pagina di atterraggio del link utilizziamo all'interno di questo attributo quella che sarà la keyword della pagina di destinazione ottimizzazione semantica qui molti di voi sono bravissimi a scrivere i contenuti quindi vi lascio come invito alcune riflessioni cioè innanzitutto il contenuto è aggiornato con le ultime informazioni sull'argomento apro una piccola parentesi su un caso concreto che mi è capitato due settimane fa una pagina era ottimizzata posizionata in settima posizione mi sono reso conto che in pochissimo tempo questa pagina legata ad una struttura di carattere turistico aveva perso posizionamento passata dalla settima posizione alla quarantesima mi sono accorto che sostanzialmente le informazioni presenti sulla pagina erano obsolete non erano aggiornate l'orario di apertura non coincideva più e c'era una promozione valida soltanto per il 2021 io ho fatto semplicemente una modifica aggiungendo l'orario incorretto eliminando l'informazione che non era più valida la sera ho completato la modifica la mattina dopo il contenuto era di nuovo in prima pagina era di nuovo in settima posizione anzi era un paio di giorni dopo era arrivato anche in quinta perché il mio contenuto era più aggiornato di altri quindi occhio alle informazioni che vengono pubblicate altra cosa il search intent che voi avete su cui voi avete puntato per l'ottimizzazione del testo è valido avete risposto alla domanda dell'utente che stava effettuando una ricerca su Google vi siete mai chiesti poi se magari l'intento di ricerca non sia cambiato perché mi capita spesso che una parola chiave oggi possa essere associata ad un intento di ricerca fra un anno magari l'intento di ricerca sarà cambiato magari adesso le persone cercano una pagina informativa tra un anno le persone potrebbero richiedere un listing quindi sono due pagine completamente diverse da ottimizzare verifichiamo quindi questo tipo di informazione sempre all'interno di SEOZoom all'interno della sezione rendimento pagine altra cosa riguarda gli header sono molto importanti e spesso sottovalutati l'H1 consideriamolo come se fosse il titolo del nostro libro quindi deve essere una presentazione breve immediata e soprattutto deve contenere la keyword su cui noi stiamo andando a lavorare anche l'H2 l'H3 oltre non mi spingerei ma facciamo in modo che tutti tutti gli headers quindi tutti gli H che noi stiamo andando a utilizzare paragrafi sotto paragrafi eccetera siano ottimizzate con le parole chiave che noi abbiamo utilizzato per ottimizzare il nostro contenuto è buona regola comunque spezzettare il contenuto in vari paragrafi e non lasciare un muro di testo che possa spaventare l'utente altra cosa su cui io lavoro molto spesso riguarda il posizionamento di keyword che nel testo non sono neanche presenti quante volte vi è capitato di fare un'analisi su Zoom su una pagina su cui avete lavorato vedete la keyword che su cui voi puntavate bene è posizionata ma accanto a questa ce ne sono delle altre che voi non avevate neanche considerato che magari si sono posizionate perché allora non andarli a inserire all'interno del testo vi assicuro che in pochissimo quelle parole chiave che si sono posizionate nonostante non fossero presenti sul testo dopo pochi giorni quelle pagine avranno un boom letteralmente inoltre possiamo dare una spinta bella forte a quelle che sono le parole chiave che fluttano tra la prima e la seconda pagina sono delle parole chiave su cui come parlavamo già con le pagine per il rendimento delle pagine con potenziale di parole chiave per cui basterebbe davvero poco quindi vediamo se sono state inserite nel testo se sono state correttamente contestualizzate vediamo se ci sono quindi cerchiamo di capire se possiamo ottimizzare il contenuto anche da questo punto di vista è una delle cose più importanti che già porta enormi risultati è come noi ci presentiamo all'interno del grosso listone di google a seguito di una ricerca come ci presentiamo siamo invitanti siamo convincenti diamo all'utente una sensazione di fiducia lo invogliamo a visitare la nostra pagina o siamo usiamo delle descrizioni un title che magari sono tagliati a metà o che sono automatici non comunicano nulla cerchiamo di rendere il nostro messaggio personalizzato quindi non utilizziamo dei testi che superino il numero di carattere massimo il meta title deve contenere la keyword perché è fattore di ranking la meta description secondo le indicazioni non è fattore di ranking ma io vi lascio un ma facciamo comunque in modo che nella description ci sia una cta quindi una call to action che quindi questa pagina invogli la persona a visitarci possibili cannibalizzazioni ne ha parlato qualche mese fa il mio collega Elia Zanon proprio su un webinar vi ho messo il link in basso per andarlo a riguardare è un problema grossissimo su alcuni siti soprattutto sugli e-commerce esistono delle pagine che sono simili a quella che io sto ottimizzando su SEOZoom trovate una sezione creata apposta per andare a verificare se ci sono delle cannibalizzazioni in corso perché se ci sono delle pagine simili allora è utile fare una verifica vedete il grafico di SEOZoom è qualcosa di spettacolare perché dove trovate queste piccole icone arancione e rosso vuol dire che c'è stato un cambio nel motore di ricerca il motore di ricerca posizionava per una determinata parola chiave per una determinata data prima una pagina dopo poco quindi vedete dalla sera alla mattina da un giorno all'altro ha deciso di cambiare pagina quindi lui è sostanzialmente indeciso se puntare su una pagina o sull'altra e continua a fare degli esperimenti e mentre fa questi esperimenti non riesce mai a portarvi su in prima pagina siete sempre penalizzati viaggiate sempre con il freno a mano questo perché avete un effetto a collo di bottiglia quindi due pagine si pestano i piedi a vicenda nessuna delle due emerge avete cannibalizzazione nel caso in cui non sappiate se sulla pagina ci sono se sul sito ci sono delle pagine simili allora potete utilizzare SEOZoom così come potete utilizzare la search console verificando se ci sono delle query che hanno un numero simile di ricerche quindi di click e impression su pagine differenti altra cosa molto importante riguarda le ottimizzazioni delle call to action perché il nostro obiettivo è sempre comunque badare al sodo è un e-commerce dobbiamo pensare al fatturato perché noi che andiamo dal cliente a dirgli guarda il nostro blog sta rendendo molto bene però il cliente può dirci si sta andando bene il blog ma io non vendo di più quindi vuol dire che le nostre ottimizzazioni portano solo traffico ma è un traffico vuoto quindi non ci dà quel qualcosa in più sul fatturato l'obiettivo è fare in modo che l'utente che è visto il nostro sito diventi un cliente trasformare utente in cliente come possiamo farlo anche se abbiamo un blog o stiamo scrivendo dei contenuti di carattere editoriale quindi informativo cerchiamo di mettere la pulce nell'orecchio nell'utente medio che sta leggendo il contenuto spieghiamogli ma anche visivamente con dei box delle immagini non mettete soltanto testo link perché spesso non servono spieghiamogli anche facciamogli vedere materialmente che quel bisogno che l'ha spinto a effettuare una ricerca su google noi lo possiamo soddisfare abbiamo i prodotti abbiamo i servizi che possono soddisfare quella sua necessità quindi utilizzate le call to action non solo alla fine del paragrafo alla fine del contenuto perché spesso l'utente neanche ci arriva a leggere tutto quindi cercate di fare un contenuto che sia anche esteticamente piacevole da vedere da leggere quindi testo alternatelo con dei link con delle immagini dei box create quindi una navigazione che sia divertente e che abbia come obiettivo quello di portarlo verso le pagine prodotto o verso i vostri servizi o verso quelle che sono una pagina di rilascio form contatti insomma quello che è il vostro obiettivo di brand a questo punto volevo mostrarvi un caso che ho portato avanti personalmente fino a praticamente lo scorso mese in realtà ci si sta ancora lavorando si tratta di un'azienda che pubblica offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale avevamo visto attraverso la search console e anche attraverso SEOZoom proprio dall'analisi delle pagine con potenziale che c'era un fattore che ricorreva su tutti i link che mi restituiva SEOZoom c'era sempre il nome di una città questo cosa voleva dire sostanzialmente che tutte le offerte di lavoro offerte lavoro Parma offerte lavoro Piacenza offerte lavoro Treviso Milano eccetera queste pagine potevano rendere di più benissimo abbiamo quindi un pattern comune abbiamo un percorso da seguire sappiamo che tutte queste pagine possono rendere meglio possiamo fare delle modifiche su tutto possiamo ottimizzarle per avere un ritorno di traffico è questo su cui noi abbiamo lavorato ci siamo confrontati ovviamente con il cliente vedete che il primo passo è stato quello di fare già una modifica dell'H1 e quindi offerte di lavoro Treviso è diventato offerte lavoro Treviso e provincia perché anche questa è una keyword che prima non veniva intercettata è stato modificato il metatitle allo stesso modo aggiungendo la parola e provincia dopodiché abbiamo creato vedete qui sono due tab ne abbiamo creato un terzo all'interno di questo tab è stata inserita una piccola porzione di testo che introduce alla pagina di destinazione abbiamo implementato le modifiche sono servite alcune alcune settimane ma ci siamo mossi su delle pagine di test abbiamo provato una prima pagina ed è questa che vi sto mostrando una pagina geolocalizzata sulla provincia di Vicenza che lavorava sulla keyword secca lavoro Vicenza guardate la parola chiave lavoro Vicenza con un volume di ricerca di 5400 ricerche mensili è passata da settima posizione alla sesta con già un bel incremento di traffico ma poi mi sono aumentate tutte queste guardate quante pagine mi sono aumentate periodo di riferimento eccolo qui marzo ottobre guardate che variazione che c'è stata siamo passati da un traffico potenziale mostrato da SeuZoom di 385 pagine ad un traffico finale di oltre 1300 quindi più 241% di traffico potenziale significa traffico che potenzialmente può arrivare sulla mia pagina in base ai volumi di ricerca delle keyword che sono posizionate e quindi il test vuol dire che ha funzionato benissimo allora estendiamo questo nostro test a tutte le province del Veneto ecco il risultato questa è una schermata della search console filtrata per tutte le province del Veneto quindi qui trovate i dati aggregati di tutte le province questi sono i dati in grosso che vi ho riportato le impression cioè il numero di volte che il nostro sito è semplicemente comparso in SERP è aumentato del 164% siamo passati da 384.000 visualizzazioni quindi impression a 803.000 praticamente quasi triplicato il numero di click aumentato anche questo del 33% quindi dagli ultimi tre mesi del 2021 siamo passati da 12.000 click a 16.000 click è un grosso passo in avanti e guardate anche il grafico in basso come le linee continue restino sempre più in alto delle linee tratteggiate vuol dire che il nostro intervento è stato provvidenziale ha portato dei benefici enormi sì ma il cliente alla fine quello che conta è il fatturato sono le conversioni bene andiamo su Google Analytics andiamo a capire qual è il tasso di conversione medio per le pagine e abbiamo visto che sostanzialmente c'è un tasso di circa il 5% vuol dire che su 100 persone che visitano la pagina 5 ci lasciano i propri contatti quindi compilano correttamente il formo contatto se teniamo buono questo tasso di conversione del 5% vuol dire che i click in più che io ho registrato mi hanno portato un più 184 di conversione vuol dire che ho 184 richieste di contatto che per il cliente significa aumento del fatturato vi ho lasciato tutto il caso studio ovviamente come riferimento l'esperimento in realtà non si è ancora concluso perché stiamo espandendo adesso per la regione Veneto per la regione Piemonte e ben presto faremo lo stesso tipo di esperimento su tutte le altre regioni d'Italia ovviamente il cliente è rimasto molto soddisfatto da questo tipo di modifica che ha richiesto non tantissimo alla fine abbiamo modificato un pochino il testo l'H1 il title e le pagine hanno avuto un boom enorme più 184% come vi raccontavo quindi il cliente soddisfatto è stato incentivato a proseguire ovviamente la collaborazione con noi e addirittura a ripetere questo lavoro su tutto il resto del territorio nazionale stiamo parlando di tantissime pagine quindi tantissimi click in più e di conseguenza tantissime conversioni attese in più io ho concluso se avete altre domande e di domande ce ne sono un sacco grazie Paolo complimenti grazie per la tua ottima presentazione per tutti gli spunti per tutti gli spunti che ci hai dato adesso come faccio spesso a questo punto io ti chiedo questa grande sfida quindi togli pure lo schermo ti chiedo lo sfido ti porterà una carrellata di domande a cui cercheremo di rispondere in maniera un po' sintetica consapevoli che potremo dare uno spunto un accenno di risposta ma io ti chiedo di non rispondere mai con dipende quindi attenzione anche se ti trovi tentato nessun dipende nelle risposte dai il tuo punto di vista ok parto con la prima su cui voglio dare un contributo anch'io rispetto alla mia esperienza in più persone hanno chiesto rispetto alle prime cose che ci hai condiviso sul cambio data dei contenuti che aggiorniamo se fare il cambio data come orientarci in questo ora è un tema su cui bisogna stare molto attenti perché Google nelle sue linee guida condivide in più occasioni come cambiare la data se il nostro intenzione è un po' fregare il motore di ricerca sia sbagliato quindi la pratica davvero corretta sarebbe di avere visualizzata sia la data di pubblicazione che la data dell'ultima modifica questo probabilmente è lo stato dell'arte diciamo dell'attività di aggiornamento in alcuni casi però pensate come a dei contenuti stagionali avete fatto un contenuto sui regali di Natale 2021 lo volete aggiornare per quanto riguarda i regali di Natale 2022 non avete la data nell'URL quindi questo vi permette anche di riutilizzare lo stesso contenuto ecco a quel punto quando il contenuto prende una sua nuova linfa e viene cambiato in maniera importante a quel punto sì possiamo anche giocarci il cambio data non deve essere fatto però in maniera appunto da fregare il motore di ricerca tu cosa ne pensi Paolo io aggiungo anche un'altra cosa che il cambio di data molto spesso vi porta la pagina che magari era slittata in una paginazione in pagina 5 in pagina 6 ve la porta direttamente in pagina 1 questo che cosa vuol dire che voi avete meno click per arrivare su quella pagina e di fatto state lanciando un segnale al motore di ricerca guarda che questa pagina è più importante sì verissimo certo e sempre rispetto a questo ma tu ogni quanto ti orienti per aggiornare i contenuti già esistenti hai delle linee guida con cui oltre a quello che ci hai raccontato ma hai qualche considerazione rispetto a ogni quanto aggiornarle abbiamo detto che non si risponde con dipende quindi ok diciamo che se abbiamo dei contenuti di carattere stagionale io generalmente mi fisso su calendario una data di scadenza che sia circa un mese e mezzo due mesi prima per poter andare ad aggiornare nuovamente il contenuto in alternativa io come prassi mi metto un piano editoriale in cui ci sono dei contenuti nuovi n contenuti lì valutati in base a quello che è la vostra disponibilità di tempo e di impegno che potete dare sulla causa metto dei contenuti nuovi e dei contenuti vecchi da modificare e procedo di pari passo ecco io per esempio aggiungo una cosa che eviterei è di aggiornare un piccolo passetto al giorno avete un contenuto bene fate la revisione al contenuto e pubblicate la revisione quindi non andando un giorno modifico un title un giorno modifico una meta description un giorno un H1 un giorno un'immagine no un'unica modifica che anche ci permetta poi di tracciare poi l'evoluzione di quella modifica nel tempo e qui scrive per esempio Laura Coppelli dice io lo faccio ogni tre mesi sì generalmente tre mesi potrebbe essere buono perché considera un po' la stagionalità anche di un trimestre in cui le attività potrebbero andare a cambiare in alcuni casi dipende anche proprio da non dipende no mi senso non dipende diciamo che consideriamo anche il business con cui dobbiamo lavorare quindi se la stagionalità del nostro sito è molto forte o se le notizie gli argomenti che trattiamo invecchiano molto velocemente a quel punto anche un tempo di revisione più breve potrebbe essere necessario o anche il caso in cui pubblichiamo un contenuto non parte Google non ne vuole sapere bene valutiamo a quel punto se ci sia ci sia qualcosa da fare per capire se prima un problema di deindicizzazione come ci diceva Paolo oppure se c'è qualcosa che non va nel nostro contenuto in quel caso magari fare una modifica anche prima dei tre mesi proprio per capire se si può fare qualcosa per farlo apprendere a Google ecco rispetto sempre alle modifiche e un aspetto che ci chiedevo un utente è se tu generalmente cambi anche le url oppure no cambiare l'url per me significa anatema quindi cambiare l'url è veramente l'ultima risorsa a disposizione perché sappiate che cambiare un url significa generare un errore 404 se voi cambiate dal vostro pannello quindi dal vostro back end un url significa che la pagina vecchia non è che è cambiata cambia l'url vuol dire che la pagina vecchia esiste ancora e lì è il suo posizionamento e voi avete creato semplicemente una pagina nuova che il motore di ricerca non sa che esiste quindi quello che è da fare è un 301 quindi un redirect dal vecchio al nuovo vi sconsiglio vivamente di fare questa operazione perché comunque fare un redirect significa chiedere al motore di ricerca di fare un salto se possiamo evitare di fare questo salto tanto meglio generalmente se una pagina viene per rispondere forse magari anche un po' più nel dettaglio se una pagina da modificare vedo che non è centrata tanto sulla keyword io valuto se cambiare o meno l'url se la pagina ha già un posizionamento non modifico in genere la modifica dell'url è veramente l'ultima delle cose se invece la pagina ha rendimento zero beh allora possiamo anche pensarci a quel punto sì e un'altra cosa una domanda che è arrivata che poi mi ha colpito profondamente perché poi io sono contro queste cose ma perché sono il target sbagliato emoji negli snippet appaiono ogni tanto in SERP appaiono delle emoji nel title quindi c'è il tag title con magari la spuntina verde o qualche faccina ecco un utente chiede un partecipante al webinar di oggi chiede se possano funzionare se attirino il click oppure no in ottica anche di migliorare il CTR beh per esempio se io fossi il target di destinazione no perché automaticamente quando vedo un emoji mi viene un brivido e non ci clicca non ci clicco quindi ecco io mi chiederei ma chi è il target di questo snippet tu hai qualche esperienza qualche dato su questo? oltre al target valutate anche chi è il vostro cliente nel senso che se voi avete un brand che magari ha un tonvo voice molto professionale non possiamo andare a mettergli le faccine sopra io personalmente condivido il pensiero di Elisa quindi sono per il no alle faccine colorate esatto metto no alle faccine colorate sia sui title che sulle description perché io non ci cliccherai mai e non lo faccio mai se vedo un sito così non lo faccio considerate poi che magari in description possono esaltare possono richiamare più l'attenzione ma non è detto che sia in positivo però qui il consiglio poi per chi vuole provare per chi volesse provare è testare via search console come cambia il rapporto tra le impression e i clic è comodo sempre poi fare qualche test io penso che poi quello che si impara nella SEO è che tanto lo si impara testando e per testare bisogna anche un po' rischiare io ho visto tantissime volte come anche all'interno della top 10 a parità anche ci si concentra tanto sul posizionamento va benissimo ma non si pensa che anche a parità di posizione anche se siamo in settima ottava non a posizione della top 10 migliorare il nostro snippet possa incrementare notevolmente i clic quindi al di là poi del posto che abbiamo conquistato più in alto più in basso della top 10 ricordare anche che testare poi gli snippet cambiarci il title inserire magari un emoji posso poi migliorare o peggiorare quello che è il tasso di click e rispetto proprio allo snippet un'altra considerazione che è arrivata è da parte di un partecipante che dice ultimamente spesso Google mi cambia il tag title e la meta description c'è un modo per evitare che Google lo faccia il modo non c'è la cosa che dovremmo chiederci è ma se Google ci cambia spesso il title perché la meta description in realtà si adatta molto di più al variare delle ricerche ma se Google ci cambia spesso il title non è che forse il nostro title magari è qualcosa che non va ti sei trovato in questa situazione Paolo? Sì mi ci trovo spesso e generalmente la risposta che io do è si contento che Google si arrangia da solo perché se Google ti ha cambiato il title vuol dire che sta rispondendo ad una richiesta da parte di un utente quindi ad una ricerca effettuata su Google che magari non centrava perfettamente il tuo title quindi magari il motore di ricerca in base al testo che tu hai elaborato quindi quello in pagina ha creato un suo title che risponde meglio all'esigenza dell'utente quindi se ha fatto questa modifica tanto meglio Sì esatto mi dico leggo un attimo faccio un passo indietro rispetto all'emoji per integrare una considerazione che ci dice che ci chiede Matteo dice ma se l'emoji possa portare valore allo snippet o alla pagina no quello che ho cercato di condividervi è che dal punto di vista SEO di forza della pagina non cambia assolutamente niente quello su cui impatta è il CTR e per questo va testato va testato sulla base probabilmente di chi è il target qual è il tono con cui il brand vuole andare a comunicare sulla base di questo capire se effettivamente un emoji può andare a supportare il CTR oppure no ma non è una questione di valore che viene dato o non viene dato alla pagina ma semplicemente di impatto che ha su chi vede quello snippet potrebbe essere utile anche guardare gli altri cosa hanno fatto se ci troviamo con una SERP dove tutti i nostri concorrenti tutti gli altri snippet hanno molti elementi di questo tipo a quel punto magari ecco se siamo gli unici a non averlo capiamo se gli altri forse possono aver avuto un'intuizione che potremmo poi percorrere anche noi anche se a quel punto quando tutta la SERP è di quel tipo siamo poi nella stessa situazione di chiederci siamo l'unicità o ci adattiamo poi a quello che stanno poi facendo gli altri ok ti faccio ancora due domande che sono arrivate ne sono arrivate tante a proposito invito anche i partecipanti a collegarsi anche con te su Linkedin potrebbe essere anche l'occasione magari per poi per un consiglio personalizzato per continuare anche a dialogare su Linkedin oppure anche a qualche evento dei prossimi che si saranno a ritrovarsi davanti a una birretta dove è sempre il momento giusto per qualche consiglio e per qualche spunto aggiuntivo l'ultima due cose che ti chiedo è una cosa molto interessante che ci chiede Michela e dice ma a te capita mai di arrivare a un punto in cui non c'è più niente da ottimizzare a quel punto cosa fai? cosa fai se guardi il contenuto e ti sembra tutto ok? non posso dire dipende valutiamo se la pagina è posizionata bene nel senso che se la pagina continua a verificare che la pagina non è posizionata bene ma dal punto di vista del testo è tutto a posto quindi non posso fare altro le strade sono due no non ancora io ho i link i link esterni i link building è l'ultima cosa proprio che faccio la prima cosa è tu puoi fare anche degli esperimenti nel senso prova a verificare se la lunghezza del tuo testo è coerente con quella dei competitors con se a zoom ci metti veramente un attimo a scoprirlo prova a verificare i grassetti come sono stati utilizzati prova a verificare quanti sono i link che escono da quella pagina e soprattutto quanti sono i link che entrano in quella pagina generalmente se veramente non posso fare nulla su quella pagina io comincio ad aumentare i link interni non vado a fare link building comincio a fare un po' di link interni e comincio a fare magari a strutturare dei contenuti correlati quindi magari utilizzare a questo punto anche il blog trattando dei contenuti correlati che possono andare in questo modo a puntare alla pagina che mi interessa comincio a mandare dei link utilizzando magari delle anchor una volta la keyword primaria una volta la secondaria comincio a lanciare questi segnali al motore di ricerca e dopo qualche mese provo a fare di nuovo un test ottimo e io aggiungo anche qualche link esterno comunque nell'attività per me è sempre utile soprattutto se se il progetto non ne ha ecco confronterei sempre anche cosa stanno facendo i competitor se i competitor anche dal punto di vista della link building hanno una forza in quello che è in quello che è l'autorevolezza off page che è stata acquisita ecco a quel punto quando mi rendo conto che un contenuto è fermo lì ma soprattutto è fermo lì e dal mio punto di vista potrebbe avere di più soprattutto se ho i competitor un po' più grandi ecco che qualche link io ogni tanto andrei a solleticare il contenuto con qualche link bene io Paolo ti ringrazio tantissimo per la tua lezione per tutti gli spunti che ci hai dato anche in questo momento ringrazio tutti i partecipanti che sono stati online con noi vi invito a continuare a dialogare con noi nei social nel gruppo facebook di se ho zoom su linkedin anche privatamente siamo sempre disponibili a un suggerimento un input in più vi auguro un meraviglioso pomeriggio vi auguro di tuffarvi in una tazzina di caffè o tra qualche ora in una birretta che insomma tra qualche ora va bene e vi do appuntamento negli altri canali grazie Paolo e grazie a tutti grazie a tutti